Una riscarica e cielo aperto. Siamo in via Arnaldo Santoro. Questo video è stato girato sabato dal comitato di quartiere Tratturo Ordona Lavello, presieduto da Domenico della Martora, e ordinari amministrazione. Quotidianamente la situazione è sempre la stessa, denunciano da Rione. A due giorni dalla segnalazione siamo venuti a verificare se qualcosa fosse cambiato. Proprio al nostro arrivo un mezzo dell'AMIU a carico laterale stava svuotando i cassonetti, ritirando i rifiuti. Per questi invece servirà un altro mezzo a bordo gli uomini, bisognerà farlo manualmente. E sono proprio questi rifiuti, questi scatoloni, la spazzatura che c'è a terra, a preoccupare i residenti anche per il rischio incendi. Questa zona intorno a noi, come vedete, è in continua espansione, ecco perché gli abitanti chiedono maggiore attenzione, più punti di conferimento dei rifiuti, ma soprattutto controlli. Da anni il comitato chiede al comune l'installazione delle telecamere per inchiodare i trasgressori che abbandonano in maniera indiscriminata i rifiuti. Al responsabile di Foggia dell'AMIU hanno formulato più volte l'istanza perché arrivassero gli ispettori e per l'attivazione della raccolta differenziata. Ma le richieste, pure reiterate, non sono state ancora soddisfatte. Vorrebbero che il servizio, piuttosto, fosse implementato qui. Da tre settimane, lamentano, non si vede la spazzatrice. Nel resto della città, specie di lunedì, il divieto di conferimento la domenica non viene rispettato e questo è il risultato. I cassonetti strabordano e con l'inalzarsi delle temperature aumentano i problemi.